Tombola della migrazione, cosa vuol dire? Che gioco è? Come si gioca? Allora, la tombola in generale, lo sappiamo credo più o meno tutti, è un gioco molto popolare. Estrazione di numeri, ma questi numeri possono avere un significato. Questi numeri sono un pretesto per dare qualche dato e questi dati dovrebbero essere provocatori, significativi e quindi ci vuole un salto in banco che estrae i numeri e un esperto che approfondisce il significato di questi numeri. I salto in banco sono io e l'esperto invece è Stefano Pratesi. Grazie dell'esperto e infatti questi numeri sono veramente la scusa per raccontare storie, storie di persone, storie che si muovono, le persone che si muovono attraversano dei confini ma alla fine hanno sempre gli stessi diritti e gli stessi doveri ma anche soprattutto la stessa dignità. Ma soprattutto, guarda, su questo tema della migrazione, degli immigrati, eccetera, si dicono tante cose. Ci sono tanti luoghi comuni e tanti pregiudizi. Allora, ripristinare con qualche dato molto semplice lo stato dei fatti non è male. Ecco, mi fate un esempio di Terna, Ambo o Cinquina che oggi è andato in scena? Ah, ma oggi sono usciti tanti numeri. Calcolate che noi lavoriamo su una tombola che è quella tradizionale 90 estrazioni. La nostra è 60 perché altrimenti staremo delle ore. Sono usciti informazioni di tutti i tipi. Di tutti, nel mondo dello sport, della storia. Storie molto belle di premi Nobel che si battono per avere il diritto all'istruzione in tutto il mondo. Abbiamo avuto storie di italiani sconosciuti e magari discriminati. Abbiamo avuto delle storie anche tristi sulla nostra storia. Abbiamo ricordato le leggi razziali del 1938, i campi di concentramento e come tutto questo purtroppo accade. Crisi humanitarie dimenticate. Sono dieci in questo momento. Abbiamo parlato di Siria, abbiamo parlato di Liberia. Ecco, questo diciamo che è un tenitore veramente molto interessante e molto vario. Per esempio abbiamo detto che la percezione che gli italiani hanno del numero degli immigrati è un tot, praticamente quasi un quarto. Nella realtà i numeri sono molto 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 meno. Ecco, quindi questa è già una cosa che sfata un pregiudizio. Ecco, perché questa scelta, questa modalità di gioco per raccontare temi così importanti, adesso imperano un po' gli slogan. Forse rispondere in modo giocoso, però dando informazioni. Allora, ho sentito in tv qualche giorno fa un abbattuto, uno slogan. Non mi ricordo chi l'ha detta, ma mi ha colpito. E recitava così, se un uomo armato di slogan incontra un uomo armato di un ragionamento, l'uomo armato del ragionamento è un uomo morto. Allora, la tombola e altre iniziative vorrebbero venire in aiuto dell'uomo dotato di ragionamento. Solo che sai, non è che puoi fare la pratica alla gente, non è che gli puoi fare dei comizi o delle lezioni. Perché giustamente i ragazzi si annoiano, non arriva. Il problema del linguaggio è un problema fondamentale, dobbiamo affrontarlo. Allora, un linguaggio giocoso, la tombola, può permettere comunque di avere dei contenuti. È sempre il solito discorso, forma e contenuto, contenuto e forma. Cerchiamo un contenuto buffo per, scusa, no, al contrario. Cerchiamo una forma buffa per trasmettere qualche contenuto di spessore. Grazie a tutti.